Gara 2 dell'Euro Formula Open da Silverstone, parte ben visca dalla pole position, prima sua in carriera nell'Euro Formula, tiene alle sue spalle Felipe Drugovic, seconda partenza al palo per l'olandese dopo l'Ungheria, la prima in Inghilterra, prova già Sibert a farsi vedere dalle spalle di Dals, non variano le posizioni, varia invece la posizione di Orio che recupera su Callan Williams Danner, si porta l'attacco dell'Australiano in bagarre, con Guillem Samaya, basi interlocutorie della corsa con Aldo Pestante che finisce in testa coda nel tentativo di attacco proprio del pilota australiano, ripartirà Pestante da quella posizione mentre Anne finisce largo facendo passare proprio il connazionale Samaya che chiuderà in decima posizione, bent visca la ministra, qui di gara con un mastino come Felipe Drugovic alle sue spalle, bella battaglia serrata e tirata sul filo dei millesimi, spiega le mani Teo Marti perché la compagina madrilena conquista con questo ragazzo classe 1999, la prima vittoria della storia nella Euroformula Open maturata per anni, trionfa anche tra i ruchi con Drugovic e Dals sul podio assoluto e Danner e Baltas in quello dei ruchi, l'esultante, bent visca l'imparco chiuso Grazie a tutti